Che cos'è l'intelligenza artificiale e come pensa? Quali sono le opportunità e rischi dell'IA nel business? Queste ed altre le domande al centro del primo seminario dedicato all'intelligenza artificiale a misura di piccole e medie imprese organizzato da Confapi Peso Urbino al Charlie Urban Hotel alla presenza di un economista esperto della materia come il professore Fabio Scacciavillani. Da parte nostra è importante dare la possibilità ai nostri associati di avere quell'azione informativa e formativa in merito all'IAI perché attualmente oggi tutti ne parlano ma pochissime persone riescono a definire bene la valenza e la portata di questa nuova tecnologia. Questa intelligenza artificiale che nasce tantissimi anni fa dall'incontro di un neurologo e un matematico se non mi sbaglio oggi si è talmente evoluta che da tradizionale e l'intelligenza artificiale tradizionale ormai è diventata generativa. Come tutte le innovazioni anche l'intelligenza artificiale modificherà le professioni. Allora faccio un esempio banale. Prima dell'introduzione dei computer e dei fogli Excel il contabile era una persona che doveva essere molto accurato perché doveva far quadrare i conti, doveva essere bravo a fare proprio le addizioni e le sottrazioni e svolgeva un lavoro tutto sommato abbastanza noioso. Con l'introduzione di Excel il contabile fa qualcosa di molto meno noioso perché la parte ripetitiva dei conti la svolge il computer e quindi è diventato un professionista diverso. Ma non sono spariti i contabili. Oggi si chiamano magari financial officer, il ragioniere capo si chiama chief financial officer. Quello che sto cercando di dire è che ci saranno delle trasformazioni in alcuni ambiti più che in altri ma alla fine il mondo si trasforma e gli umani tradizionalmente si sono sempre adattati a questi cambiamenti e con più o meno maggiore o minore entusiasmo poi le cose hanno portato a un miglioramento nelle condizioni di vita, nel benessere, nella facilità con cui si svolgono i compiti e sarà così anche con l'intelligenza artificiale nonostante coloro che predicono sventure, nonostante coloro che si focalizzano sui rischi nonostante coloro che hanno voglia di rallentare piuttosto che di abbracciare i cambiamenti.